Gli ambienti di alta quota dell'Appennino costituiscono uno scrigno di biodiversità ad eccezione, costituito da ecosistemi ancora integri e selvaggi, con un'alta percentuale di specie endemiche esclusive di questi territori. A causa del riscaldamento climatico, questo serbatoio di biodiversità è a rischio di profonde modificazioni. Per valutare lo stato di salute di questi ambienti, i ricercatori della rete italiana di monitoraggio ecologico a lungo termine stanno monitorando in alta quota la temperatura dell'aria e del suolo, gli scambi gassosi a livello del suolo, la copertura nevosa e la composizione chimica della neve, la flora, la velocità di accrescimento delle specie legnose e la fauna. L'analisi dei dati ambientali raccolti ha rivelato un innalzamento termico di circa 0,8 gradi in 10 anni, un aumento consistente di specie termofile che prediligono temperature miti e risalgono da quote inferiori e una contrazione di alcune specie microterme legate ai climi freddi di vetta. Grazie a tutti.